Li proteggerò votando no, no, salvo i miei diritti, lo farò, io dico no. Lo dico no, no, salvo i miei diritti, lo farò, sì, li proteggerò votando no, no, salvo i miei diritti, lo farò, io dico no. Buonasera a tutti, buonasera a Monzesi e Nonna, che piacere avere questa piazza così bella gremita di belle persone. Innanzitutto bisogna fare i ringraziamenti perché non soltanto sono sentiti ma sono anche dovuti. Quindi ringraziamo tutti quelli presenti, ringraziamo tutti gli attivisti della Monza e Brianza che ci hanno dato una mano ad allestire questa bellissima piazza. Vi raccomandiamo, come sempre facciamo, di lasciare la piazza pulita di modo che si accorgono che siamo passati noi, perché di solito le lasciamo più pulite di come le troviamo, quindi questa è una raccomandazione che ci tengo a fare. E vi chiediamo anche di, insomma, noi siamo qui, siamo tutti quanti, diciamo, volontari e per fare questo evento questa sera abbiamo messo dell'energia, abbiamo messo anche dei soldi, quindi c'è la possibilità di prendere dei gadget che potete poi lasciare un'offerta libera così che ci date una mano a rientrare dei costi. Io ovviamente sono emozionatissimo perché vedere tutte queste persone qui è un'emozione molto forte e vorrei trasmettervi quello che secondo me è il messaggio più importante. Noi stiamo facendo una battaglia di democrazia. Io credo che vi stiate rendendo conto che piano piano ci stanno sottraendo il potere, il potere che è del popolo, pian piano ce lo stanno portando via. Questa riforma, questa riforma costituzionale è la riforma dei poteri forti e delle banche. So che detto così può sembrare uno slogan, però io poi sono il primo a parlare, sono anche forse il meno adeguato per entrare nel merito. Gli altri sicuramente lo faranno meglio, però informatevi e soprattutto dovete cercare di informare più persone possibile su quello che sta avvenendo, perché davvero quello che sta facendo questo governo è qualcosa di indicibile. Una riforma costituzionale di per sé dovrebbe essere già una proposta del Parlamento, invece questa è una riforma che viene da un governo, un governo che ricordiamoci, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, quindi questo è già un governo che dovrebbe essere illegittimo. È un governo che sta riformando la Costituzione in 47 articoli, cioè vuol dire che praticamente un terzo della Costituzione sta per essere riformata. Gli articoli rivisti, se voi andate a leggerli, molti sono di difficile comprensione, al contrario di quello che è la nostra Costituzione, che tanti definiscono la Costituzione più bella del mondo, ed è bella veramente perché chiunque, anche un ragazzo molto giovane, la legge la comprende, perché è scritta con poche parole semplici, comprensibili per tutti. Non dobbiamo pensare che le leggi, le regole devono essere difficili da comprendere, anzi al contrario, e la Costituzione ce lo insegna. Questi signori, Renzi, Verdini, Laboschi, che l'hanno riscritta, l'hanno riscritta per fare un regalo alle banche, per fare un regalo alle lobby, perché gliel'ha chiesto l'Europa, e la stanno riscrivendo in modo che i cittadini non la possano comprendere. Questo voi dovete andarlo a dire con forza, perché io sono convinto che voi qui già siete abbastanza, se non totalmente, sicuri di votare no. Però purtroppo ci sono persone che ancora non sono sicure. Voi dovete convincere, vi raccomando, tutti quanti, ognuno di noi deve fare uno sforzo grandissimo, perché non bisogna lasciare nessun tentativo indietro di convincere chiunque a votare no, e soprattutto a fargli capire che cosa stanno cercando di fare, perché non si fermeranno. Questa è la cosa importante da capire. Se anche noi, e noi vinceremo questo referendum, perché sicuramente sarà il no a vincere, ma dobbiamo trovare la forza di convincere le persone e sentire dentro il desiderio di difendere la nostra Costituzione, di difendere il nostro Stato, di difendere l'Italia, perché stanno cercando di portarci via l'Italia, non soltanto con la riforma della Costituzione. Questa è una delle cose più vecere che stanno facendo, ma ne stanno facendo altre e altre ancora tenteranno di fare. Quindi voi prendete a cuore questa battaglia, prendetela a cuore, ma fate in modo che sia lo spunto per poi continuare in questa battaglia che non deve fermarsi dopo il referendum, perché assolutamente da una parte ci sono dei poteri molto forti che vogliono costringerci a fare quello che vogliono loro, ad essere degli sudditi fondamentalmente, ad essere degli schiavi, e noi non dobbiamo permetterlo. Quindi, forza, con forza deve essere arrivato qualche nostro rappresentante. Bene, bene. Io non vi rubo altro tempo. Quello che appunto vi ritorno a fare è questa raccomandazione di lasciare la piazza più bella di come l'abbiamo trovata, di dare conforto a tutti quanti gli attivisti che sono qua da diverse ore, che hanno preso molto freddo per allestirla. E vi raccomando, prendete a cuore questa battaglia, prendete a cuore l'Italia, diamoci tutti da fare il più possibile per fermare quello che stanno facendo. Fermiamo queste persone che vogliono toglierci il potere, il potere del popolo, ricordiamocelo. Io dico no. Ciao a tutti, grazie Gianmarco, rimani qui, rimani qui Gianmarco, vieni qui con noi. Noi insieme facciamo battaglie qui a Monza, abbiamo bisogno di tutti voi. Adesso vi guardo e siete veramente bellissimi, è uno spettacolo meraviglioso da qui vedere la piazza che si va riempiendo, i portavoci del Movimento 5 Stelle che stanno arrivando e che adesso interverranno qui su questo palco. In particolare è bellissimo e voglio dire due grazie in particolare. Grazie a tutti gli attivisti che hanno reso possibile questa serata, organizzata veramente nel giro di dieci giorni e grazie a tutti quelli che hanno portato dei bambini qui. Perché tutto quello che facciamo è per loro. Noi, lo ricordiamo sempre, non siamo un partito. Noi siamo un movimento, un movimento politico che fa le cose pensando ai bambini. Sì, perché questo è quello che dobbiamo fare, non pensare alla prossima elezione. Grazie a tutti quelli che hanno portato dei bambini in piazza nonostante il freddo, nonostante le cose siano state organizzate velocemente. Questo è il Movimento 5 Stelle. E detto questo, appunto, io quello che voglio raccontarvi è veramente poco, ma importantissimo. Il primo, rinnovarvi l'appello. Intanto, un piccolo sondaggio. Voi che cosa voterete al referendum costituzionale del 4 dicembre? No! Cosa votate al referendum costituzionale? No! Non si sente ancora bene. Cosa votate al referendum costituzionale? No! Siete dei grandi. Allora, voi voterete no, ma la cosa importante è che ci sono ancora tantissime persone indecise, indecise se andare a votare, indecise sul cosa votare. E i motivi per votare no sono scritti in questa riforma. Il motivo principale è uno che non si capisce. E allora questo l'avete scritto voi nei messaggi che ci avete mandato in questi giorni su Facebook, sulle mail, sul sito nostro di Movimento 5 Stelle di Monza, quando abbiamo annunciato l'evento. Molti di voi hanno scritto una cosa in particolare e hanno detto Noi votiamo no perché non si capisce quello che hanno scritto nella riforma. È scritta coi piedi questa riforma. E già questo basterebbe a farci dire un no grande come questa piazza. Ma è importantissimo, è fondamentale che da oggi parta un'onda lunga che arriva fino al 4 di dicembre e arriva fino al 4 di dicembre convincendo le persone, attaccando bottone con tutti, sugli autobus, sui mezzi pubblici, al lavoro. È fondamentale che tutti voi facciate questo lavoro. Perché il Movimento 5 Stelle non siamo noi, non sono i portavoce che sono qui. Siamo tutti insieme. Il Movimento 5 Stelle vuol dire basta deleghe. Vuol dire che siete voi i portavoce del Movimento 5 Stelle. Per quello io dico queste cose. Perché sono le cose che ci avete scritto, che ci avete mandato per email, che ci avete scritto su Facebook. Questo è il lavoro fondamentale che ci aspetta da qui al 4 di dicembre. Convincere persona per persona, metro per metro, come ci dice Beppe Grillo, dobbiamo difendere metro per metro il nostro diritto. La sovranità appartiene al popolo. E questa riforma costituzionale sta cancellando questa cosa qui. Pensate a un altro fatto banale. La riforma della legge elettorale, abbinata alla riforma costituzionale, che cosa fa? Consentirà alla Camera di eleggere la stragrande maggioranza dei deputati dai partiti. E il Senato integralmente nominato dai partiti. Questa è una cosa inaccettabile. E' per questo che noi tutti oggi, insieme ai parlamentari, stiamo facendo questo tour per dire io dico no. Che cosa votate al referendum costituzionale? No! Grazie a tutti! Sì, io aggiungo solo una cosa. Mi hanno fatto notare che io sono Gianmarco Novi e lui è Nicola Fuggetta. Noi siamo due attivisti del Movimento 5 Stelle di Monza. Siamo la coppia del no in questo caso. A Monza siamo anche la coppia delle proposte perché abbiamo fatto delle bellissime proposte per Monza. E abbiamo fatto anche tante battaglie. Quindi se volete darci una mano è un grande piacere. Noi cerchiamo cittadini attivi, quindi non tenetevi soltanto questo momento per partecipare. Perché noi ne abbiamo tantissimi di momenti come questi, anche se non siamo così numerosi, in cui c'è veramente molto molto da fare. Qui a Monza e in tutta Italia. Adesso sale sul palco Gianmarco Corbetta, che è il nostro consigliere regionale eletto qui da provincia di Monza e Brianza. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Innanzitutto grazie per essere qui perché è novembre, è sera, fa freddo. Invece se voi siete qui è perché avete capito che in gioco c'è tanto. In gioco c'è il futuro nostro, dei nostri figli e la partita è veramente molto molto dura. Quindi tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Poi io volevo anche ringraziare tutti gli attivisti di Monza e dei gruppi dell'Abrianza che hanno lavorato per giorni e giorni per realizzare questa serata. Quindi vi chiedo un applauso anche per loro che sono qua da stamattina a lavorare. Prima di parlarvi del referendum sulla Costituzione, io vi volevo dire anche una cosa, soprattutto i cittadini di Monza. Voi sapete bene che fra pochi mesi si vota qua a Monza. Noi a Monza abbiamo un gruppo importante, un gruppo forte, ci sono degli attivisti molto in gamba, ma ovviamente non bastano mai perché più siamo e più cose riusciamo a fare, più persone riusciamo ad attivare e più risultati riusciamo a portare a casa. Quindi il nostro appello non è tanto ai voti. Noi non stiamo chiedendo per le elezioni amministrative di Monza del 2017 i vostri voti e neanche i vostri voti. Noi vogliamo la vostra testa, vogliamo le vostre idee, i vostri progetti, la vostra voglia di cambiare. Quindi sappiate che se avete voglia finalmente di alzarvi dalla sede, di fare qualcosa di concreto per la vostra comunità, per la vostra città, se non volete lasciare l'amministrazione delle vostre cose che vi riguardano direttamente ai soliti partiti, ai soliti giri di potere, da noi ci sarà sempre la porta aperta per chiunque e l'ultimo arrivato conterà sempre come quello che è qui da anni, perché da noi funziona così, uno vale uno e valgono soprattutto le teste, le idee e i progetti. Per cui qua in tutti i gazebo troverete delle persone, se volete potete rivolgervi a loro, molte non sono neanche di Monza, ma vi sapranno indicare chi è di Monza, oppure potete semplicemente mandare una mail a monza5dinumerostelle.gmail.com e vi diranno che cosa fare per attivarvi. Grazie davvero. Detto questo, passiamo al referendum. Noi siamo qui perché fra poco meno di un mese ci sarà un referendum fondamentale per la nostra Repubblica e per il nostro Paese. Io vi racconto un pezzettino di questa riforma che è quella che mi riguarda più da vicino, perché io sono un consigliere regionale. Voi sapete che verrà riformato anche il titolo quinto della Costituzione, che è quello che regola i rapporti tra lo Stato e le regioni. Questo è un tema di cui non si parla moltissimo, ma in realtà è molto molto importante. Ora, io mi trovo nella scomoda situazione oggi, stasera, di dover difendere le regioni. Dico scomoda perché quando voi andate dai cittadini a parlare delle regioni oggi, quello che vi dicono sono gli scandali, la corruzione, il trota, laminetti. E voi sapete che abbiamo avuto un vicepresidente di regione l'anno scorso che è stato messo in galera, era assessore alla sanità di Forza Italia, Mario Mantovani. Abbiamo Fabio Rizzi, che è della Lega Nord, che è stato il presidente della commissione sanità in consiglio regionale. Anche lui finito in galera, gli hanno trovato la mazzetta nel freezer di casa. Questo è il livello della classe politica che sta governando la regione. Quindi è difficile venire oggi qui a difendere la regione. Però io vi chiedo di fare uno sforzo, di distinguere quella che è la classe politica che oggi governa la regione, questa infima classe politica che noi abbiamo, ma che fra un anno e mezzo andrà a casa e ci sarà il Movimento 5 Stelle a mettere a posto le cose in regione Lombardia. Vi chiedo di distinguere quella che è la classe politica da quello che è il ruolo che le regioni hanno nel disegno costituzionale. La Costituzione dà un ruolo importantissimo alle regioni. Articolo 5 della Costituzione, principio di autonomia, vuol dire che tutti i cittadini devono essere partecipi delle cose che gli riguardano da vicino. Avere il decentramento amministrativo, avere chi decide vicino a casa, a qui, a 20 km, a 15 km a Milano. È molto diverso che averlo a 400 o 500 km. Questo è il principio dell'autonomia. Avere uno Stato più snello, meno burocratico, più efficiente, più vicino alle esigenze dei cittadini, che sia anche più controllabile da parte dei cittadini su come spende i soldi. Questa è la funzione originaria che la Costituzione ha dato alle regioni. Purtroppo noi siamo di fronte oggi a un tentativo da parte di Renzi di annullare le regioni. E il giochetto è molto semplice. Fare leva su tutti gli scandali che sono successi, che non sarò certo io a difendere, ci mancherebbe altro. Sono il primo a condannarlo. Ma usare questi scandali per annientare le regioni, perché le regioni sono dei contropoteri nei confronti del governo centrale. Tutto quel meccanismo di accentramento del potere, di cui sentite spesso parlare, e vi parleranno anche gli altri dopo, a livello centrale, quindi l'accentramento del potere sul governo, nei confronti del Parlamento, del Presidente della Repubblica, della Corte Costituzionale, lo stesso accentramento di potere sta avvenendo anche ai livelli diversi dello Stato. Dalle regioni ci sarà un accentramento di potere verso Roma. Io vi faccio un esempio pratico, così riusciamo a capirci di cosa stiamo parlando. Io in regione Lombardia lavoro in Commissione Ambiente e ricevo praticamente tutti i giorni cittadini, comitati, associazioni, che vengono a raccontarmi i problemi che loro hanno a livello territoriale, a livello ambientale, nel loro comune. Io fino ad oggi, non dico che sono riuscito a risolvere i problemi, perché non è compito mio risolvere i problemi, però riesco a rappresentare questi problemi a chi deve decidere, che sia il Governatore della Regione, l'Assessore all'Ambiente. E mi devono dare una risposta, perché sono qua vicino, io riesco a recepire queste problematiche e riesco a portarle all'attenzione di chi deve decidere su quelle problematiche. Se passa questa riforma costituzionale, l'unica cosa che potrò dire a tutti i cittadini che mi chiedono un appuntamento sarà compratevi un biglietto per Roma, fissate un appuntamento con il Ministero e tanti auguri. Non potrò dire nient'altro. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo trucchetto che Renzi sta facendo. Anche il discorso dell'abbassamento dello stipendio dei consiglieri regionali. Ma chi non lo vorrebbe? È chiaro che è una cosa che tutti vogliono. A parte che basta la volontà politica del singolo consigliere regionale e io e i miei colleghi in regione del Movimento 5 Stelle siamo l'esempio perché in tre anni abbiamo restituito 130.000 euro alla regione. Quindi basta solo quello. Basta la volontà politica. Ma c'è bisogno, secondo voi, di andare a cambiare la Costituzione per abbassare lo stipendio dei consiglieri regionali. Ma stiamo scherzando. Basta una semplicissima legge regionale o nazionale che il Movimento 5 Stelle quando andrà al governo ci metterà un nanosecondo da approvare e la questione è risolta. Allora capite qual è il giochino. Renzi ti dice vuoi abbassare lo stipendio dei consiglieri regionali. Allora vota sì a tutto il pacchetto. Ti dà la caramellina ma insieme alla caramellina tu ti prendi anche la bastonata in testa. La riduzione del tuo potere. La riduzione del tuo potere decisionale. Questo è il gioco. Io vi chiedo assolutamente di non cedere a questo gioco. Di capire che ha solo uno specchietto per la lodole e di votare no il 4 di dicembre al referendum costituzionale. e ditelo in giro perché non basta che ce lo diciamo tra di noi. Io penso che tutti voi siate venuti qua già consapevoli di votare no. L'importante di questi incontri è quello di darvi delle informazioni in più per andare poi a raccontarle fuori ai colleghi, agli amici, ai parenti perché solo in questo modo riusciremo a portare a casa il risultato. Grazie a tutti e avanti tutta. Buonasera a tutti. Sono Massimo De Rosa sono alla Camera dei Deputati con i colleghi sono vostro portavoce sono un cittadino nelle istituzioni e stiamo lottando per la Costituzione. Io voglio sentirvi voglio farvi scaldare un po' e voglio far sentire a Monza un po' la voce del no. La voce del no per la tutela della nostra Costituzione non è un no conservativo noi vogliamo tutelare i nostri diritti e non vogliamo perderli i nostri diritti. E allora voglio farvi qualche domanda voi fatevi sentire così Monza ci sente. Voi volete che la Costituzione sia modificata da Renzi, Boschi e Verdini? No! Volete una Costituzione che dica che il Senato sia costituito tutto da nominati dai partiti? No! Volete una Costituzione che consenta al governo di venire nel vostro giardino nelle vostre proprietà e iniziare trivellazioni oppure costruire nuovi forni inceneritori? No! Allora siamo tutti d'accordo dobbiamo farlo capire a tutti gli altri la nostra missione è andare in giro parlare con le persone con gli amici al bar da tutte le parti dovete parlarne tutti i giorni perché quello che c'è in gioco è il nostro futuro veramente il nostro futuro non abbiamo mai detto non modifichiamo la Costituzione mettiamoci a un tavolo con un Parlamento che sia stato scelto dai cittadini e non abusivo come quello che c'è oggi mettiamoci al tavolo e facciamo qualcosa per i cittadini e non contro i cittadini questa riforma è cucita è cucita sul PD la riforma costituzionale la legge elettorale tutto fatto in un momento in cui il PD aveva il 40% e credeva di poter vincere adesso si cagano sotto perché hanno paura che il Movimento 5 Stelle li batta ma il Movimento 5 Stelle non vince perché promette qualcosa il Movimento 5 Stelle sta crescendo nella consapevolezza delle persone degli italiani perché gli italiani non si vedono più rappresentati da partiti che vogliono solamente mantenere la poltrona ma si vedono rappresentati da cittadini da altri cittadini da persone come noi come voi che vanno nelle istituzioni e vogliono fare qualcosa di meglio per i propri figli allora noi vogliamo che un domani il Presidente della Repubblica non sia scelto solo dal partito di maggioranza e questo è il rischio che avremo con questa riforma costituzionale la Boschi questo non ve lo dice non vogliamo che una Corte Costituzionale rischi di essere scelta nella sua maggioranza di componenti dal partito di maggioranza perché altrimenti non abbiamo nessuno a fare da contraltare capite bene che negli anni scorsi come adesso tutte le porcate che ha tentato di fare Renzi e che ha fatto Berlusconi a suo tempo sono state comunque calmierate da una Costituzione che tutela i cittadini quindi se uno esagera troppo se il governo esagera troppo da una parte e si vuole prendere qualcosa che è dei cittadini del popolo sovrano ricordiamoci il popolo sovrano bene c'era qualcuno che lo metteva a tacere c'era qualcuno che lo calmava lo metteva lì e gli diceva no ragazzo perché c'ha da rispettare delle regole democratiche questo vogliono cancellarlo vogliono fare in modo che domani un partito infimo che abbia una minoranza nel paese possa diventare maggioranza nelle istituzioni e possa da solo governare il paese senza più nessuno che lo fermi questo noi non lo vogliamo non lo possiamo accettare non possiamo accettare che mettano non so quante volte ne avete sentito parlare una clausola di supremazia praticamente il governo decide improvvisamente come vi dicevo prima che c'è un interesse nazionale importante per cui devono venire nel vostro territorio devono venire a Monza e fare delle trivellazioni perché serve petrolio perché qui hanno deciso che ci si deve sviluppare così si deve andare in quella direzione oppure che si deve fare un inceneritore o un qualunque altro impianto a fianco a casa vostra bene con questa riforma costituzionale non dovranno più passare dalle regioni come diceva Corbetta non dovranno più chiedere niente ai comuni non potranno più dire un cavolo i cittadini non potranno più dire niente le associazioni ambientaliste le associazioni di cittadini i gruppi organizzati nessuno avrà più voce in capitolo perché vi diranno ragazzi andate a Roma a parlare col burocrate e a Roma il burocrate se ne fregherà altamente di voi adesso avevamo avevamo una leva adesso avevamo la leva che misera per carità perché in una situazione del genere con dei partiti venduti così era una leva misera ma sul territorio se facevano delle porcate tu ti ricordavi il nome non votavi più il consigliere regionale o il sindaco o l'assessore bene adesso adesso non avremo più questa leva perché ti diranno la colpa è di Roma e passeranno sopra a qualunque cosa e noi saremo in mano a una classe di debosciati che vogliono mangiarsi il paese spolparlo e portarci via gli ultimi diritti che ci sono rimasti e allora noi non accettiamo che si passi dalla Costituzione di Pertini alla Costituzione di Verdini non accettiamo che la nostra Costituzione sia in vendita non possiamo accettarlo perché per i nostri figli non possiamo accettarlo per noi non possiamo accettarlo perché gente è morta per arrivare a avere questa Costituzione perché questa Costituzione nasce dopo una guerra nasce da persone che hanno discusso e hanno cercato di trovare l'ottimo non sarà perfetta niente è perfetto in questa vita però è una Costituzione che ci ha portato avanti in questi anni che tanti ammirano e che comunque ha sostenuto i valori i valori dei cittadini gli interessi dei cittadini bene per noi applichiamo questa Costituzione facciamola rispettare e mandiamo a quel paese questa gente per questo noi diciamo no adesso sul palco viene Davide Trippiedi di Desi un collega che stimo tantissimo e che conoscete tutti ciao a tutti innanzitutto volevo ringraziare tutti gli attivisti le persone che sono qua presenti a difesa della Costituzione io volevo vedere se il PD riuscisse a organizzare una roba del genere senza soldi ma solo con la volontà di difendere la Costituzione e quindi facciamo un applauso a tutti gli attivisti di Desi o di Lissone di Seves o di Monza che hanno organizzato questo bellissimo evento senza una lira lo ricordo senza una lira voglio a parte i ringraziamenti voglio solo ricordare che questa Costituzione è sponsorizzata da banche e da faccendieri non dobbiamo permettere a Dennis Verdini di diventare un padre costituente solo per questo noi dobbiamo dire no a questa vergognosa riforma che va a ledere i diritti fondamentali dei cittadini italiani qual è la scusa? il risparmio il risparmio è una balla non è vero che si risparmiano 500 milioni di euro se ne risparmiano poco più di 50 milioni di euro quindi dobbiamo cercare di difendere la democrazia e voglio solo ricordarvi quando volevano modificare l'articolo 18 dicendo che in Italia ci sono troppe tutele e gli investitori non vengono perché abbiamo questa questa carta che difende i diritti dei lavoratori che è troppo stringente oggi hanno modificato l'articolo 18 e usano la stessa scusa per modificare la Costituzione noi le multinazionali se devono venire qua a prendere giro i lavoratori se ne possono andare a fanculo scusatemi dobbiamo difendere il diritto di ogni italiano di poter scegliere il proprio senatore ed è questa la parte cruciale con una legge elettorale vergognosa che fa nominare il 60% dei deputati all'interno della Camera e con questo senato non elettivo permette ai partiti di nominare il 100% dei senatori facendo una bella cosa togliendo il diritto di voto ai cittadini italiani e noi non dobbiamo permettere questo schifo ma voglio farvi un esempio Beppe Sala il sindaco di Milano potrà essere un nuovo senatore Beppe Sala è sindaco di Milano è presidente della città metropolitana e potrà diventare pure senatore io vi faccio questa domanda ma come fa a fare bene tre ruoli questo uomo è follia questa riforma dobbiamo difenderla e questa è una delle battaglie più importanti non del movimento ma di tutti i cittadini italiani a difesa della carta costituzionale quindi io vi saluto vi ringrazio e cerchiamo di diffondere questo messaggio votiamo no per far sì che Verdini non diventi un padre costituente grazie a tutti parola a Maglio Di Stefano anche lui uno sgobbone che sta cercando di difendere la costituzione in tutte le piazze come lo stiamo facendo tutti quindi grazie e votiamo no per difendere la carta costituzionale grande Maglio pensaci tu grazie grazie Davide dopo una presentazione così devo fare grazie a tutti per essere qui giornate fredde noi siamo in giro ormai da due giorni siamo partiti da un posto caldo da Osta siamo oggi in un posto ancora più caldo a Monza sono Maglio Di Stefano capogruppo della commissione affari esteri a Montecitorio vorrei partire con una semplice considerazione magari qui tra di noi stasera lo spero quanto meno c'è qualcuno che non ha votato per noi nel 2013 o che ha qualche dubbio su cosa debba votare a questo referendum io chiedo a queste persone una semplice cosa quando nel 2013 avete guardato prima di andare a votare il programma del vostro partito e poi quel partito magari è diventato quello di governo il partito democratico tra l'altro poteva essere anche Forza Italia perché questo governo è nato da questa alleanza Forza Italia e il partito democratico non ce lo dimentichiamo mai perché molti mi dicono eh ma se votiamo no poi torna Berlusconi no no se votate sì ce l'avete ancora già lì ed è pronto perché ha fatto la coalizione correnza ed è nato dal patto del Nazareno questo governo chi ha visto quei programmi non ha mai letto riforma costituzionale ha letto taglio di mezzamento degli stipendi riduzione dei parlamentari ha letto taglio dei costi della difesa eliminazione degli F35 questi erano punti che erano presenti nei nostri programmi del Movimento 5 Stelle come quello del partito democratico solo che poi noi quelle cose che potevamo fare non essendo al governo le abbiamo fatte il partito democratico le ha totalmente ignorate e ha fatto l'unica che non c'era nel programma la riforma costituzionale allora già questo dovrebbe farvi sospettare qualcosa io con tutte le persone con cui parlo per strada poco fa eravamo a Novara e ho parlato con un po' di persone per strada le ho intervistate e gli ho detto ma cosa voterà il referendum e mi hanno risposto qualcuno no la gran parte posso dire tranquillamente qualcuno mi ha detto sì e io ho detto perché voti sì e lui mi ha risposto perché credo in Renzi gli ho detto no no ma ci può stare politicamente dico se ti guardi soltanto la televisione c'è tanta gente che potrebbe credere in Renzi io ho detto sì ma ok ma togli il fatto politico la riforma perché voti sì è la riforma perché credi in Renzi no ma Renzi non è la riforma i governi cambiano la Costituzione rimane per 70 anni e questa Costituzione che cambierebbe in modo drammatico la terremo per molto più di 70 anni perché come l'hanno concepita insieme all'Italicum è impossibile da modificare nuovamente qualora dovesse essere approvata perché quello è l'inganno l'inganno è che non è soltanto una semplice modifica costituzionale i padri costituenti l'avevano prevista la modifica costituzionale ci mancherebbe altro ma dicevano in modo chiaro la Costituzione va modificata per piccole parti omogenee significa per materia e per piccole parti perché perché è la madre di tutte le leggi se cambia la Costituzione cambiano una serie di leggi a catena se cambia un articolo puoi capire cosa cambia di pari passo se cambi 47 articoli non capisci dove andrai tant'è che i più grandi costituzionalisti italiani sono i promotori del comitato del no perché perché un personaggio come Zagrebbeschi ad esempio quando gli hanno detto questa riforma come la valuti lui ha risposto dovesse vincere il sì al referendum io smetterò di insegnare perché non saprei cosa insegnare ai miei studenti questa è la quota di questa riforma costituzionale e allora molti miti ve li hanno già sfatati vi hanno detto che il senato non viene abolito viene abolita la scheda elettorale vi hanno detto che hanno fatto lo stesso lo stesso magheggio delle province li fatto le dovevano abolire hanno abolito il nostro diritto al voto le hanno chiamate le città metropolitane e sono ancora lì con i loro presidenti con i loro con i loro uffici con i loro costi l'altra cosa che ci dicono per questa riforma si risparmierebbero tantissimi soldi Renzi iniziò dicendo si risparmiano 100 milioni no lui disse addirittura un miliardo ai tempi si risparmia un miliardo inizio campagna elettorale poi qualcuno capì che l'aveva spada troppo grossa e la Boschi corresse il tire e disse 500 milioni di euro bene poi è arrivato questo documento perché poi capite le bugie hanno le gambe molto corte è arrivato questo documento questa è la ragioneria di Stato che fa un'indagine su cosa succederebbe se applicasse questa riforma bene dice chiaramente la ragioneria di Stato che tra abolizione del CNEL e del Senato si risparmiano esclusivamente 55 milioni di euro e voi dite vabbè 55 milioni di euro buttali via no buttali via no perché 55 milioni se li pensate pro capite sono un caffè all'anno e voi con un caffè all'anno a persona rinunciate ai vostri diritti al voto e a una democrazia sana questa è la quota della Costituzione che stiamo affrontando e allora io dico solo faccio un esempio ve l'abbiamo detto mille volte siete stufi magari di sentirlo ma loro risparmiano con una riforma costituzionale 55 milioni noi come un solo gruppo politico in tre anni abbiamo rinunciato a 70 e rotti milioni di euro non prendendo rimborsi elettorali tagliandoci gli stipendi e restituendo i rimborsi in più che non utilizziamo per la nostra attività lavorativa non ve lo dico tanto per ricordarvelo ancora ve lo dico per farvi capire che a volte quando ci danno i numeri in assoluto sembrano delle cose fantastiche 55 milioni sarebbe bastato dimezzare come abbiamo chiesto noi il numero dei senatori dei parlamentari lasciando tutto il resto per com'è e avremmo risparmiato molti ma molti milioni di più quindi smontate queste balle dobbiamo andare a capire qual è la finalità di questa riforma costituzionale questo è un sistema e ce ne accorgiamo anche dalla Brexit io poi mi occupo di politica estera per lo più ce ne accorgiamo dalla Brexit ce ne accorgiamo dalle elezioni di Trump negli Stati Uniti ce ne accorgiamo da quello che sta nascendo come movimenti che loro questa intelligenza italiana che si autodefinisce tale definiscono antisistema poi bisognerebbe capire cos'è il sistema da proteggere è quello dei cittadini o è quello dell'establishment penso che il sistema positivo e il sistema giusto sia quello dei cittadini quindi chi rappresenta i cittadini non è l'antisistema è chi protegge il sistema dei cittadini che dovrebbe essere l'essenza della democrazia bene quello che sta succedendo ci dimostra una cosa ci dimostra che l'obiettivo finale è che loro si sono resi conto che il terreno si sta sbriciolando sotto i piedi e se si sbriciola il terreno sotto i piedi bisogna proteggersi dal loro punto di vista e allora cosa hanno fatto allontanano con la riforma i cittadini dalle istituzioni gli eliminano il diritto di fare proposte in salvia popolare che le portano da 50.000 a 150.000 firme eliminano il diritto di votare i senatori e soprattutto col combinato risposto insieme all'italicum fanno sì che la Camera sia una casta di nominati come il Senato perché alla Camera con le piccole circoscrizioni e con i capilista bloccati avrà un 70% di nominati dai partiti e il Senato interamente nominato che succede? che se dovesse vincere il sì al referendum e dovesse poi Renzi vincere anche le prossime elezioni lui avrebbe la Camera a maggioranza assoluta e il Senato pure perché le regioni oggi sono a maggioranza partito democratico ma se dovesse vincere il referendum e poi perdere lui le elezioni e la vincenza del Movimento 5 Stelle ad esempio noi avremmo la maggioranza assoluta alla Camera ma il Senato che non si rinnova insieme alla Camera perché sono i consigli regionali sarebbe composto ancora da membri del Partito Democratico in una quota di quasi 60% ovvero tutto ciò che il Movimento 5 Stelle vorrebbe davvero proporre di riuscita in anza taglio dei costi della politica taglio dei costi militari sarebbe esclusivamente bloccato da un Senato composto da persone nominate dai partiti per rovinare la nostra azione politica quindi questa è un'operazione vinci o vinci per Renzi è per questa che l'ha pensato l'ha pensata con personaggi come Verdini come Berlusconi come Alfano persone che non saranno quelle con cui andremo a prendere il caffè non sono personaggi simpatici ma sono molto furbi infatti stanno in politica da 50 anni a spese nostre questa gente è quella che sta proponendoci questa riforma allora io alle persone che non vogliono entrare nel merito ce ne sono tante purtroppo dico fate una cosa guardate chi vi propone questa riforma e il 4 dicembre avrete un bivio da una parte avrete quelle facce le stesse che potevano cambiare tutto e si sono macchiati della grave colpa di non cambiare nulla per il bene dei cittadini e vi propongono oggi una firma che certifica che gli diamo ancora fiducia dall'altra parte abbiamo il popolo italiano che è stanco di essere presi in giro che è stanco di una risoccupazione al 43% giovanile che è stanco dei 9 milioni di poveri sotto la soglia di povertà assoluta e vuole un cambiamento vero che passa dal mandare a casa questo governo anche grazie a questo referendum e poi alle prossime politiche spera di mandare al governo cittadini nelle istituzioni come il Movimento 5SL questo è il bivio guardatelo in faccia quel giorno e convincete chi non è ancora deciso che quella strada la conosciamo già e ci porta alla rovina votate no grazie mille passo la parola a Giorgio Sorial buonasera a tutti buonasera Monza grazie di essere qui una riflessione insieme ci rendiamo conto che ormai ogni riforma che fanno noi ci ritroviamo sempre a stare peggio pensateci pensiamoci un attimo qualche anno fa ci hanno detto che le pensioni italiane erano pensioni che dovevano essere riviste hanno fatto quella che è diventata la legge Fornero la riforma Fornero e ha creato delle classi sociali che manco esistevano prima i non salvaguardati gli esodati persone che non possono né lavorare né andare in pensione le pensioni minime oggi in Italia sfiorano a malapena 495 euro in un mese pensioni minime ossia quello che ti dovrebbe garantire lo Stato per sopravvivere è sotto la soglia di povertà di 600 euro poi dopo qualche tempo ci hanno detto ci sono le scuole da mettere a posto e hanno fatto la buona scuola la riforma della scuola e la riforma della scuola cosa è successo? se tu vai a scuola porti i bambini a scuola ti rendi conto che le scuole cadono a pezzi non hanno la carta igienica da comprare eppure i libri sono sbagliati hanno inserito nei sussidiari di quinta elementare che questa riforma è già passata siamo a questo livello di dittatura mediatica e dell'informazione culturale passa del tempo ci dicono che gli ospedali sono da mettere a posto che la sanità pubblica non è più una sanità sostenibile e fanno la riforma della sanità e noi cittadini lombardi con la riforma della sanità ci siamo in mezzo perché se voi vi ricordate qualche tempo fa è uscito lo scandalo della Sanitopoli Lombarda ma attenzione consiglieri regionali che sono all'interno dei consigli di amministrazione delle cliniche private che gonfiano le liste d'attesa degli ospedali pubblici per dirottare i malati nelle cliniche private per fare tac risonanze magnetiche e questi dovrebbero essere i nuovi senatori anche perché ragazzi quando ci prendiamo in giro fare business e prendere in giro gli italiani utilizzando i malati è la cosa più schifosa che non un politico un cittadino possa fare e noi non possiamo permettere a questa gente di fare queste robe e questa era la riforma della sanità riforma 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 era l'unica cosa che poteva essere letta e capita tra le varie leggi italiane se la prendeva in mano un bambino la capiva ora la nuova riforma la nuova costituzione non si capirebbe e loro ti dicono ti dicono no vabbè ma riformiamo solo la seconda parte della costituzione quante volte anche nei gazebo ci dicono eh ma sono solo i secondi 47 articoli ma grazie mille i primi articoli li avete già di fatto riformati diciamo l'articolo 1 insieme l'italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo l'italia è ancora una repubblica qualcuno dice che è un regno qualcuno dice che è una dittatura alla fine della fiera si vuole che sia uno solo che decida sui propri e con i propri interessi quindi non è più una repubblica è democratica no ci vogliono togliere anche la possibilità di votare di scrivere i nostri e i nostri senatori voi vi ricordate quando è stata l'ultima volta che vi ho descritto nome e cognome di un parlamentare ormai nemmeno nel 2013 l'ultima elezione politica abbiamo scelto nome e cognome dei parlamentari noi sì il Movimento 5 Stelle l'ha fatto con le parlamentarie ma tutti gli altri non l'hanno fatto si sono ritrovati una lista di parlamentari di candidati parlamentari scelti dal partito stesso e quindi non è neanche più democratica perché non ci permettono di scegliere e quando non ci permettono di scegliere non ci permettono di decidere le linee guida per la politica allora l'italia non è una repubblica l'italia non è democratica l'italia è fondata sul lavoro è affondata sul lavoro è affondata sul lavoro perché ormai il lavoro è trattato alla mercè di un gratta e vinci se voi entrate dal tabaccaio c'è una parete con i gratta e vinci e una parete con i voucher perché tanto li gratti tutte e due però come i gratta e vinci con i voucher tu gratti 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 ma non vinci mai niente perché sono sempre sette euro e mezzo all'ora che ti vengono date è lo Stato che vince perché due euro e mezzo sono date allo Stato e in più ci sono le tasse per le spese postali allora anche qua non è più nemmeno fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo ecco su questo punto ragioniamoci insieme perché il 4 dicembre vogliono togliere anche quell'ultimo briciolo di sovranità che ci rimane quell'ultimo briciolo di poterci sentire orgogliosamente italiani ma soprattutto orgogliosamente cittadini liberi e guardate l'informazione cosa sta succedendo guardate chi sono coloro che stanno scrivendo questa riforma costituzionale non vi parlo della Boschi non vi parlo di Renzi li conosciamo bene non vi parlo di Napolitano perché ho già dato anche su Napolitano come ben sapete però Verdini Verdini non lo conoscevamo fino a qualche tempo fa pensateci chi era Verdini nemmeno i senatori lo conoscevano in realtà era uno che andava ma poi chi era Verdini però Verdini è una delle figure più controverse di questa riforma costituzionale oltre a una serie di indagini e di situazioni poco piacevoli nel suo curriculum penale Verdini è in una situazione a riguardo di indagini della P3 e della P4 conosciamo tutti molto bene la P2 conosciamo chi è Liciogelli conosciamo come quella loggia massonica abbia cercato e abbia purtroppo secondo le indagini condotto e guidato la politica italiana per decenni interi ora la P3 è l'update è l'upgrade della P2 è l'aggiornamento della P2 e dalla P3 si è passati fino a mai alla P4 se si prendono le carte dell'inchiesta si legge che la P3 è un'associazione segreta massonica che ha lo scopo di controllare gli organi costituzionali dello Stato e lo scrivono perché c'è un motivo molto chiaro e serio c'è scritto che dopo l'approvazione del Lodo Alfano tra Camera e Senato tra l'altro Lodo Alfano che è stato approvato in 19 giorni quindi non c'è un processo legislativo veloce o lento c'è un legislatore che è un malfattore e si fa i fatti suoi e non approva le leggi per i cittadini ma questo è un altro conto dopo che è stato approvato tra Camera e Senato Lodo Alfano il Verdini insieme a un certo Flavio Carboni che abbiamo già sentito nominare per la questione di Banca Etruria ve lo ricordate? aveva incontrato per almeno tre volte al papà della Boschi per decidere le nomine del Consiglio di Amministrazione all'interno di Banca Etruria il Verdini si incontra con il Carboni e due magistrati a casa del Verdini qualche giorno prima che la Corte Costituzionale dovesse dare il giudizio di Costituzionalità sul Lodo Alfano per ascoltate bene c'è scritto nell'inchiesta pianificare la strategia di pressione sui membri della Corte Costituzionale cioè il Verdini si è incontrato con dei magistrati e con Carboni a casa sua per fare in modo che Lodo Alfano che era palesemente incostituzionale venisse dichiarato costituzionale noi stiamo dando in mano a delle persone che sono incostituzionali per elezione per i premio di maggioranza la Costituzione stessa e questi stanno modificando la Costituzione per rendere costituzionale le leggi incostituzionali è chiaro? qualcuno lo vuol ripetere è uno scioglilingua allora questa gente che ha più un curriculum penale che costituzionale non può permettersi di fare tutto ciò questa gente ha provato di fare pressione sulla Corte Costituzionale non riuscendo a fare pressione immaginiamo e speriamo sulla Corte Costituzionale modifica la Costituzione sui propri di valori al posto di rispettare i valori della Costituzione allora non è più possibile pensare di dare in mano a questa gente la Costituzione italiana non è più possibile che noi pensiamo di lasciare andare la nostra sovranità che è la cosa più importante nelle nostre vite a queste persone allora il 4 dicembre dobbiamo fare una cosa molto chiara e molto semplice dobbiamo fare quello che abbiamo raccontato tutta l'estate stiamo raccontando in ogni singola giornata dobbiamo riprenderci i nostri valori dobbiamo riprenderci i valori della bandiera italiana non sventolarla solo durante i mondiali ma capire che quella bandiera rappresenta in un modo o nell'altro ogni singolo nostro diritto dobbiamo capire che bisogna andare in piazza non solo quando toccano i nostri diritti ma anche quando toccano quelli del vicino perché se no il giorno in cui toccheranno i miei diritti da andrò in piazza non ci sarà nessuno accanto a me è solo così che si crea la comunità ed è solo così che si manda veramente via quel middleman quell'intermediario quella multinazionale coloro che vogliono svendere il nostro paese è il miglior offerente sovranità vuol dire essere dei sovrani nel proprio territorio vuol dire essere dei cittadini liberi vuol dire non lasciare andare il senso immenso della vita che oggi vuol dire stare bene stare bene far stare bene i nostri figli non farli ammalare in un territorio sempre più inquinato e soprattutto poter decidere le sorti del nostro paese il 4 dicembre votiamo no al referendum costituzionale e riprendiamoci la nostra sovranità grazie mille un collega direttamente dalla campagna Carlo Sibiglia ciao a tutti ciao a tutti c'era questa mitologia che al nord facesse freddo mi sono riempito mi sono imbottito quindi mi tolgo un po' di cose perché il vero calore me lo date voi quindi vi ringrazio vi ringrazio già in anteprima grazie innanzitutto volevo a parte le battute ho fatto mille chilometri da ieri sono partito da Avellino per arrivare ad Aosta perché ho deciso anch'io di lasciare nulla di intentato noi abbiamo bisogno di spiegare fino in fondo di cosa parla questa riforma perché molta gente non l'ha capito non l'ha capito allora bisogna entrare nel dettaglio per spiegare le cose però bisogna partire da un altro concetto cioè il concetto è ma perché dire sì a questa riforma a me ancora nessuno me l'ha spiegato per quale motivo noi dobbiamo oggi parlare in un paese che ha il 12% di disoccupazione 2300 miliardi di euro di debiti e il 64,7% di tasse sugli utili per le piccole e medie imprese dobbiamo venire in piazza perché questo governo ci ha costretto a dover discutere della riforma di 47 articoli della Costituzione che è uno stravolgimento del nostro ordinamento è assurdo è una cosa che noi non possiamo accettare è già questo basterebbe per dire no il 4 dicembre però un'altra cosa che mi viene in mente è dire ma se queste persone non ci vogliono più far votare i senatori perché è questo che succederà io non so tra voi magari qualcuno ha 23 anni qualcuno ne ha già più di 25 avrà tolto per sempre il piacere di poter scegliere chi sarà il proprio senatore e noi questo non lo possiamo permettere questa gente ci metterà 74 consiglieri regionali e 21 sindaci io già me lo vedo a Vincenzo De Luca il presidente della regione campagna che si sfrega le mani e dice ma quando lo approvano sta riforma così mi danno pure a me l'immunità parlamentare e posso fare tutto quello che mi pare a me senza nessun problema con la giustizia e questo è il giochino allora per quale motivo si deve cambiare questi 47 articoli della Costituzione ora e poi è normale che un governo il governo stesso che propone questa riforma costituzionale che è sostenuto dal partito democratico finirà se dovesse mai vincere il sì Maglio Maglio ci sei Maglio Maglio mi vuole dare una mano a fare questa cosa è normale che il governo sostenuto dal PD che propone la riforma se dovesse vincere quello che il governo sta proponendo il senato finirà così cioè con 57 senatori del partito democratico 28 del centrodestra e 5 del movimento 5 stelle senza l'elezione quindi sovvertendo quello che è il nostro voto popolare e la nostra scelta democratica ma questa roba è indecente è questo il vero motivo vogliono scipparci il senato senza votare ma che che cosa succede in questo paese siamo tutti impazziti io non voglio spiegarne 300 volte questi motivi perché noi finiremmo per diventare antipatici alle persone questa è logica è pura logica allora la semplicità no l'altro motivo qual è? la semplicità bisogna fare le cose semplici più semplici meglio è la velocità bisogna fare le leggi velocemente ma voi sapete in questo paese quante leggi ci sono? qualcuno dice 150.000 qualcuno 350.000 ma alla fine la domanda è ma noi abbiamo bisogno più leggi che vanno più velocemente o di meno leggi ma fatte bene invece di avere queste leggi di merda questa è la domanda allora noi abbiamo bisogno di poche leggi fatte bene e questa balla che non sia possibile farle velocemente è una balla in otto ore questi signori si sono dati 42 milioni di euro di rimborsi elettorali senza uno straccio di ricevuta e di fattura andate a chiedere voi un rimborso senza una fattura e senza una ricevuta vediamo che cosa vi succede questi signori in otto ore hanno approvato questa legge per dare 42 milioni di euro nelle casse dei partiti legge Boccadutri e il nostro reddito di cittadinanza è in attesa da due anni e mezzo di essere approvato allora non è il problema alla Costituzione che questi quando vogliono fare una legge per i fattacci loro la fanno in 4 secondi quando serve a noi ci fanno aspettare alle calende greche è per questo che bisogna votare no quest'altra infamata dei costi quest'altra infamata dei costi i costi della politica ma lo sapete che c'è il rischio che se dovesse mai vincere il sì a questa riforma potrebbero addirittura aumentare i costi della politica perché in alcune regioni grazie al Movimento 5 Stelle anche già hanno ridotto alcune indennità per esempio per i consiglieri regionali in Piemonte per quelli in Campania e anche per quelli in Lombardia ma se dovesse vincere il sì siccome non è chiara questa riforma e non specifica Maglio anche qui e non specifica gli emolumenti grazie Maglio sei fantastico un applauso al mio valletto preferito e siccome questa riforma non specifica non specifica gli emolumenti potrebbero arrivare tutti a 6.600 euro al mese e quindi avremmo aumentato i costi della politica siamo alla follia legislativa e alla follia dei partiti insomma non si capisce per quale motivo noi stiamo discutendo di queste cose ci prendono tutti per pazzi questa storia dei costi pure deve finire il 25 ottobre noi abbiamo votato abbiamo proposto una legge sacrosanta in Parlamento che diceva fate quello che fa il Movimento 5 Stelle vi dimezzate il 50% dello stipendio con legge ordinaria risparmiamo 97 milioni di euro e non ci rompete le scatole fate stare tranquilla sta benedetta Costituzione lo si poteva fare prima del 4 dicembre il 25 ottobre è prima del 4 dicembre se votavano sì poi passava al Senato con procedura di urgenza Grasso avrebbe fatto approvare questa riforma e avremmo risparmato più soldi quindi dei costi della politica sta gente non gliene frega una bene amata niente non gliene frega niente allora il concetto è che noi la possiamo spiegare fino all'infinito questa riforma non l'ha voluta nessuno non se la legge nessuno chi non legge la riforma è quello che oggi vota sì chi si vuole fidare dei partiti e di Renzi perché questo è un mandato in bianco al governo Renzi per fare quello che vuole con i decreti attuativi e i rimandi della legge costituzionale a delle leggi ordinarie quindi chi si fida di loro voterà sì voi per tre anni e mezzo da cui faccio il parlamentare mi avete detto ma come facciamo noi che cosa possiamo fare noi qual è il nostro potere è arrivato è arrivato il vostro momento il vostro momento di far capire a questi signori che il mondo che ci hanno raccontato non esiste più il vostro potere il potere del vostro voto oggi è fondamentale il 4 dicembre non votate per le poltrone votate per voi stessi e mi auguro che scegliate di votare no grazie a tutti vi presento Alessandro Di Battista che non ha bisogno di presentazioni e viene qui a spiegarvi il restante di quello che è rimasto ciao buonasera a tutti buonasera buonasera grazie anche alle forze dell'ordine che si mettono sempre dietro quando c'è il 5 stelle si mettono dietro non c'è problema non è che devono mettersi tra cittadini dentro l'istituzione e cittadini fuori non c'è bisogno di protezione intermediazione guardate è una piazza normalissima siamo entrati con gli zaini trolli per me questa è democrazia e mi sembra che tutti gli altri rappresentano esattamente invece lo spirito antidemocratico ma io lo vedevo pure adesso rispetto alle elezioni nordamericane ma come si comportano non è che un giorno va bene la democrazia statunitense la migliore del mondo quando eleggono Obama poi diventa un paese di bifolchi di ignoranti perché eleggono Trump cioè per costoro democrazia c'è solo quando il voto dei popoli coincide con i loro desideri altrimenti è voto di rabbia quante volte ci hanno accusato di voto di rabbia poi io l'altro giorno sono andato in tv c'era Scalfare che mi diceva tu sei rabbioso e me lo diceva così voi siete violenti odiate tutti me lo diceva così ma veramente no è dal primo giorno che rovesciano la realtà non si rendono conto forse la nostra forza è questa non ci capiscono perché sono rinchiusi nei loro attici distratti ad aprire le ostriche a cercare lo dico sempre il martelletto per aprire le ostriche però sotto il disco degli entillimani perché sono così radical chic io ecco veramente il l'ipocresia in questo paese è interpretata da questi radical chic che pensano di poter capire il mondo fanno previsioni non ci hanno mai capito niente ma i radical chic se vogliono far politica facciano un partito mettano in piedi un'organizzazione e vediamo quanti voti prendono giusto è incredibile sono quelli che ripeto il referendum se gli esiti dei referendum li soddisfano il referendum è uno strumento di partecipazione democratica se gli esiti dei referendum non li soddisfano il referendum è pericoloso perché è uno strumento in mano al populismo tipo sul Brexit c'è veramente per loro la democrazia ma che concetto è che cos'è democrazia oggi che sappiamo cosa accadrà dopo le elezioni dopo il 4 dicembre certamente nessuna fine del mondo ma l'unica cosa se ci pensiamo certa che sappiamo che accadrà è che cambieranno la legge elettorale perché? perché devono riaffidare la possibilità al cittadino di scegliere nome e cognome un parlamentare no ma perché hanno paura che possa vincere il Movimento 5 Stelle cioè sono democratici coloro che cambiano le leggi elettorali non ascoltando i cittadini ma ascoltando i sondaggi ma vi rendete conto? è un paese alla rovescia questo per capirlo ci dobbiamo mettere la testa in giù e forse capiamo qualcosa io sto in Parlamento e alle volte ci accusano quelli che non si sono mai tagliati un euro di stipendio accusano quelli che se lo tagliano di tagliarselo troppo poco è incredibile Napolitano che sono 63 anni che sta in Parlamento nelle istituzioni i quattrini nostri che gli sono entrati nelle sue tasche legalmente 16-18 milioni di euro è entrato grazie al suffraggio universale ha vissuto tutta la sua vita solo grazie alla politica con il suffraggio universale oggi dichiara il voto di Trump una delle situazioni più drammatiche da quando c'è il suffraggio universale come dire il suffraggio universale andrebbe rivisto ma ci rendiamo conto e tutto questo io ho votato a sinistra in vita mia viene dalla sinistra cioè la falsa sinistra è ciò che c'è più di ipocrita nel mondo hanno distrutto i diritti sociali neanche Berlusconi ha usato tanto però lo fanno arrostendo la salamella nelle feste dell'unità chiamandosi compagni tra di loro prestandosi i dischi degli intillimani e tirando sul pugno chiuso mandassero affanculo è così e oggi quelli che sono costretti a scrivere la parola democratico nel loro simbolo altrimenti non ci crederebbe nessuno l'unica cosa che vogliono fare è togliere la possibilità ai cittadini di votare questo è Mark Twain diceva se votare contasse davvero non ce lo farebbero fare forse un tempo non contava oggi che i giornali loro ormai io ci incarto il pesce non ci credo più ormai il cittadino legge una cosa sul giornale e quindi non ci crede quest'estate io facevo il tour andai a fare benzina e un benzinaio aveva letto su un giornale che io non avevo la patente l'avevano detto qualcosa non è che è venuto a dirmi ma tu non hai la patente no mi fece quest'altra domanda ma è vero quello che ho letto nel giornale che tu non hai la patente era un passaggio in più cioè già metteva in discussione quel che scriveva il giornale esatto oggi quindi vi dicevo che forse l'opinione pubblica non si fa manipolare così facilmente come un tempo anche perché c'è la rete siamo in diretta facciamo le piazze fa freddo stasera e ci stanno centinaia di persone oggi che quindi forse il voto conta di più rispetto a un passato in cui c'erano pochi giornali o televisioni tutte in mano hanno lo stesso sistema e quindi manipolavano maggiormente l'opinione pubblica oggi che il voto conta di più provano a non farci votare più come? non eliminano le province eliminano la possibilità di votare alzano magari il numero di firme per alcune leggi di iniziativa popolare e poi che cosa fanno? non eliminano il senato ma eliminano la scheda elettorale però ci danno il contentino ma vi abbiamo eliminato alcuni senatori è il bonus ci tolgono un diritto quello di votare io voglio votare qualcuno e non voglio votare qualcun altro però in cambio ci danno il bonus questo risparmio e io ho visto in parlamento che ogni qualvolta ci danno un bonus ci fottono un diritto fisso matematico bonus 80 euro tra l'altro quattrini nostri poi te li danno prima delle elezioni poi magari a qualcun altro a qualcuno glieli tolgono dopo le elezioni e contemporaneamente appena ti danno il bonus 80 euro Jobs Act precarizzazione totale repubblica del voucher perché ormai questa è la repubblica fondata sul voucher non più sul lavoro bonus insegnanti comprati l'iPad trattano gli insegnanti come non lo so tieni la mancetta comprati l'iPad buona scuola quindi sempre più difficile diciamo l'insegnamento da parte degli insegnanti bonus studenti ehi ragazzetto comprati quello che vuoi 500 euro in bonus buono d'acquisto però sempre più difficile pagare le tasse universitari e quindi sempre meno persone magari si laureano meno persone si formano e quindi ci sarà un popolo maggiormente ignorante più facile da manipolare dei mezzi di informazione perché ci vogliono così tendenzialmente poveracci non proprio miseri perché ci incazzeremmo però tendenzialmente relativamente poveri da costringersi a pensare ogni giorno più al lavoro che alla politica perché un popolo che si occupa di politica è pericoloso per loro se ne devono occupare soltanto loro i benpensanti quelli gli illustri gli intellettuali gli opinionisti gli analisti tu che mestiere fai? sono un analista poi sbagliano tutto però non è che cambierò mestiere però sono i primi ad attaccare magari un commento pure stupido di qualcuno sul web webbete e lo attaccano e voi che non ci avete capito nulla di Brexit degli Stati Uniti d'America di questo fenomeno del movimento che ormai va avanti con le proprie gambe in maniera straordinaria no voi siete gli opinionisti e quelli che non capiscono nulla delle elezioni americane ieri mi dicevano ma avranno ripercussioni sul voto del 4 dicembre provando a trattarci come dei cretini che votano in Italia sulla Costituzione ascoltando quel che succede negli Stati Uniti d'America oppure vedendo se dietro le conferenze stampa di Renzi ci sono o non ci sono le bandiere d'Europa perché il guru di Obama questo fenomeno Jim Messina gli ha detto a Renzi togli la bandiera dell'Unione Europea quando fa le conferenze stampa aiuta cioè pensano che il popolo italiano ha un referendum costituzionale per votare sì o no si guardi appunto le bandiere che ci sono dietro Renzi quando fa queste dirette o le conferenze stampa ci trattano da popoluccio però forse un pochino forse ogni tanto ci siamo fatti trattare da popoluccio io quando sono entrati in Parlamento pensavo che i demoni albergassero lì dentro ci fossero i demoni i nemici da abbattere poi in questi anni forse ho pensato ma è il palazzo del governo il Parlamento il luogo dove dimorano i demoni o forse sono altri ma è stata questa classe dirigente ad approvare l'acquisto degli F35 al posto di costruire asili o è stata la nostra indifferenza sono stati questi politici ad approvare la legge Fornero oppure siamo stati noi quando abbiamo abbassato la testa quando abbiamo preferito distrarre farci distrarre o ci siamo affidati al fatalismo pensando è così bisogna farlo non lo so non gli stiamo dando alle volte anche troppa importanza non si stupiscono forse pure loro dell'eccesso di potere che gli abbiamo dato per colpa della nostra indifferenza della civia della nostra distrazione certo ci distraggono distrarre significa dividere di fatto spingere in parti diverse lo fanno televisione ci distraggono pure noi ci andiamo in tv però pure la televisione non lo so televisere significa vedere da lontano noi vogliamo vedere da vicino perché ce ne accorgiamo nei decreti renziani o in queste riforme costituzionali che hanno sempre bei titoli poi da vicino c'è la fregatura come nell'istruzione magari non lo so quando compri un aspiravolvere che la non la puoi ridare tranquillo non paghi nessuna penale poi nell'ultima riga piccolino però se la ridai durante i primi due mesi devi pagare 3.000 euro di molta però non l'hai letto noi stiamo lì dentro e analizziamo ogni giorno indecenze che arrivano nei mezzi di informazione tanti l'hanno smesso appunto di informare pensano che il mezzo di informazione debba indirizzare l'opinione pubblica il generalista deve informare non deve indirizzare ognuno si indirizza da solo ci indirizziamo noi con le nostre coscienze e valuteremo quel che c'è dentro questa riforma io vi sorto soltanto a pensare a chi le sta facendo innanzitutto cioè le fanno veramente gli antidemocratici per eccellenza le fanno gli stessi partiti che ci hanno rovinato la vita e che oggi accusano la Costituzione di essere stata quella l'ostacolo allo sviluppo della società è come se appunto stanno dando alla Costituzione le colpe dei loro fallimenti guardate che Renzi ha approvato tutto quel che doveva approvare in questi due anni qual è una legge che Renzi non ha approvato in Parlamento una che ha portato e non è riuscito ad approvarla non me ne ricordo nessuno Claudio c'è stata una legge che Renzi non è riuscito a fare niente tutto quindi evidentemente questo Parlamento per lui ha funzionato oggi che si rendono conto che il Movimento 5 Stelle inizierà a governare in alcune regioni e magari potrà bloccare determinati progetti il Tav Terzo Valico il Tav con i grandi opere che sono tangentifici allora tolgono il potere magari a certe regioni di legiferare in materia non di sanità che resta tutto come prima con la sanità non credita alle balle della Boschi ma in materia di distribuzione produzione e trasporto di energia oppure in materia di grandi opere perché gli interessa quello perché c'è un popolo sempre comunque più informato che non si lascia più manipolare si rendono conto che hanno delle armi spuntate dal punto di vista della manipolazione e quindi devono togliere alcuni poteri ai cittadini in una fase in cui il cittadino conta di più di prima io la vedo così e non possiamo permetterglielo come? non lo so se ce la faremo qua è Davide contro Colia Davide contro Colia quasi tutti i giornali sono schierati andiamo in tv oggi Maglio è andato lo interrompevano ogni secondo succede io poi ci vado e ci provo uso l'ironia alle volte riesce alle volte meno non è facile forse ce la faremo se ognuno diventa un piccolo organo di informazione o contro informazione iniziando a dire che non è un referendum come quello sulle trivelle non c'è il quorum quindi se vota solo Verdini decide solo Verdini cominciamo più persone ad andare al voto facciamogli leggere spieghiamogli che il diritto al voto non può essere comprato con il bonus di un risparmio esiguo pari appunto a un caffè all'anno perché se no è questo il meccanismo noi ci accontentiamo delle mancette abbassiamo la testa li ringraziamo del bonus che sono sempre quattrini nostri e la smettiamo di alzare la testa a rivendicare i diritti ma un popolo è un popolo solo se rivendica diritti e i diritti guardate che non è che arrivano dal cielo una volta che ti piomba un diritto e resta per sempre no come una pianta li devi dare l'acqua altrimenti muore è così ti tolgono i diritti soprattutto in una fase in cui il capitalismo finanziario le banche d'affari che sono le vere mandanti di queste riforme costituzionali necessitano della privatizzazione dei diritti per fare business per quello lo vediamo è democrazia la nostra è la democrazia io leggo Barroso Prodi Monti Draghi Amato Gianni Letta tutti che o hanno lavorato prima o dopo in istituti finanziari in banche d'affari prima o dopo la loro esperienza istituzionale cioè come se venissero piazzate lì dalle banche d'affari oppure venissero premiati per quello che hanno fatto come uomini politici dalle banche d'affari quindi lavorano in Goldman Sachs consulenze con i Rothschild consulenze con JP Morgan quattrini che queste banche li danno perché perché sono particolarmente bravi no li devono premiare o li devono comprare questa questa è la situazione c'è qualcosa di sbagliato veramente che ho detto ho detto sono stato politicamente scorretto e allora ognuno faccia la sua parte ognuno noi siamo qui domani staremo dove siamo a Bergamo a Milano poi la sera a Crema domani continuiamo in Lombardia no 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 noi guardate questa per me è un'opportunità meravigliosa io sto facendo una cosa meravigliosa insieme ai miei colleghi combattiamo per quello in cui crediamo in Parlamento chiediamo la parola sono costretti a darci una cosa incredibile sono costretti ad ascoltarci io chiedo la parola vedo la Boldrini che sbianche scusi è una meraviglia però poi basta poi noi cambieremo entrerà qualcun altro al posto nostro e magari farà meglio di quel che stiamo facendo noi e guardate questa regola di due mandati non osiamo mai metterla in discussione che è la nostra sopravvivenza lì dentro non la mettiamo mai in discussione non ci credete a queste balle però ora che avete imparato ma di che le istituzioni questo devono essere a servizio dei cittadini che entrano danno l'anima danno l'anima per un periodo e poi escono e tornano in quel paese reale e sarà nel loro interesse contribuire a migliorarlo proprio perché saranno costretti a farvi ritorno questa è la logica meravigliosa di questo movimento che va avanti contro tutto e tutti e non ce la fanno a buttarci giù possono mentire ma tanto si vede dai nostri volti che ci crediamo poi non siamo perfetti abbiamo fatto pure noi qualche stronzata ma non abbiamo mai messo le mani nelle tasche dei cittadini mai abbiamo sbagliato qualche parola come è normale siamo cittadini normali normali i primi tempi le telecamere addosso gli studi televisivi il trucco e la sedia troppo alta la sedia troppo bassa e mandiamo la pubblicità io me lo ricordo quando andate alla Bignardi la prima volta non era facile pensavano di massacrarci i professionisti della comunicazione che massacrano questi parlamentari che fanno i primi passi negli studi televisivi invece non ci hanno massacrato oggi addirittura gli alziamo gli ascolti è così è così ho detto la Bignardi a proposito di radical chic io vi dico che ce la faremo boh non lo so però ci dobbiamo provare cioè alla fine le battaglie si devono condurre a prescindere dalla certezza del risultato finale noi adesso abbiamo delle idee che stiamo mettendo in circolo il reddito di cittadinanza il concetto di reddito come diritto umano come avere un tetto la sanità pubblica reddito ognuno deve avere un reddito dice ah ma così avvantaggi i fancazzisti no perché abbiamo una proposta serissima che obbliga coloro che prendono un reddito di cittadinanza di inserirsi in un percorso formativo ma questo è un passaggio è un momento di passaggio incredibile tu non puoi permettere che centomila giovani scappino dall'Italia ogni anno ma stiamo scherzando bisogna dargli un reddito perché devono restare qua quei soldi devono tornare nell'economia reale e poi poco a poco si creerà un circolo virtuoso che rilancerà l'economia e che rilascerà il posto di lavoro ma il reddito deve essere un diritto umano come poter respirare come poter trasportare pubblicamente come poter bere acqua pubblica questo è il concetto e li stiamo infilando questi concetti come vere leggi anticorruzioni parleranno dei nostri temi parlano già dei nostri temi non li realizzano avete visto Renzi faceva il grellino poi gli portiamo le leggi in Parlamento per dimezzarsi gli stipendi neanche le votano però prima o poi passeranno questi concetti un tempo pure il voto alle donne era un'utopia oggi forse per qualcuno un'utopia il reddito di cittadinanza ma sarà realtà e sarà realtà tanto prima quanto ci impegneremo tutti quanti come sarà realtà un popolo che non si fa abbindolare dai mezzi di informazione e dice no perché vuole il diritto di votare per me basta quello uno dice posso parlare dell'articolo 70 l'articolo 117 l'ho studiata questa riforma ne parlo in tutte le piazze d'Italia da mesi però per me la cosa più principale possiamo concedere ai partiti che ci hanno rovinato la vita la possibilità di nominarsi loro gran parte dei parlamentari se se li nominaranno loro questi parlamentari a chi risponderanno al popolo con le leggi o ai partiti politici che li hanno nominati ai partiti politici li hanno nominati e oggi che cos'è un partito è un SPA è una società per azioni finanziata dalle grandi lobby e deve rispondere agli interessi del finanziatore questo è il partito politico oggi per cui il parlamentare nominato risponde al partito che risponde all'interesse della grandi lobby sia un petroliere un banchiere uno che trivella questo uno che è esperto in cemento questo è il popolo è altro un popolo soprano per me è altro oggi io vi ringrazio che siete qui numerosissimi Alfredo vi ringrazio di cuore mettiamocela tutta viva il Movimento 5 Stelle viva l'Italia grazie a tutti ho l'onore di presentarvi un bravissimo senatore bravissimo uno di quelli che magari non sta in primissima linea mediatica però uno di quelli proprio che porta il fiero in cascina come si dice è Bruno Marton è della vostra zona è bravissimo è bravissimo il senatore Marton che non molla mai dovete essere fieri di avere un portavoce in senato come lui grazie a tutti e viva l'Italia io ho un po' di domande per voi quanti dei presenti hanno avuto il coraggio di leggere il disegno di legge costituzionale siete dei folli io vi avviso allora i colleghi amici prima hanno detto tutto quello che avverrà hanno toccato tutti gli argomenti tutti per cui bisognerà votare no però non vi hanno detto almeno solo Ale l'ha detto chi è stato il promotore vero di questa riforma costituzionale chi ha imposto chi ha imposto e ripeto imposto questa riforma costituzionale a questo Parlamento bravi qualcuno ha risposto Napolitano Re Giorgio signori Re Giorgio ha avuto il coraggio e l'ardire di farsi eleggere per la seconda volta e di fare uno scambio uno scambio di favori e di poteri con Renzi gli ha detto caro Renzi io ti do il posto di letta ti do il posto di letta ma tu devi distruggere questa costituzione la devi assolutamente portare a casa perché se no non ti do il mandato allora Renzi nelle prime righe anzi boschi perché è il DL boschi nelle prime righe scrive dopo un dibattito più che trentennale sulla necessità di fare la riforma costituzionale questa ormai è necessaria ed obbligatoria e allora io sono andato a vedermi perché anch'io sono folle come quelli che hanno letto questa cosa il programma delle primarie di Renzi non c'è una che sia una parola che parla di riforma della costituzione non ce l'avevano neanche per la testa di riformare la costituzione è stato semplicemente uno scambio di favori con Napolitano perché Napolitano ovviamente è controllato da altri questa è la prima bugia che vi hanno detto che dicono sempre ed è assolutamente pericolosa è la prima bugia pericolosa non è vera la seconda cosa che vi dicono è però noi taglieremo 200 senatori si risparmierà è vero si risparmierà ma io vi faccio una domanda se voi danno una vaschetta di gelato con dentro tanta melma e una pallina di nutella sopra voi la mangereste e allora perché io devo approvare tutte le schifezze di 47 articoli per mandare a casa 200 persone vi stanno terrorizzando ci stanno terrorizzando dicendo che se non si cambia ora non si cambierà mai più la riforma costituzionale è l'esatto opposto signori è l'esatto opposto se passa questa riforma costituzionale non la si modificherà più quindi voi vi mangiate quella pallina di gelato ce la mangiamo tutti insieme ma ci mangiamo anche tutta l'altra palta allora pensateci bene prima di andare a votare che manderete a casa 200 politici finalmente ma chi non avrebbe voluto chi non avrebbe voluto mandare a casa 200 politici siamo stati i primi abbiamo fatto emendamenti per dire dimettiamo il senato dimettiamo la camera perché c'erano bocciata secondo voi ma vi siete domandati perché ci bocciano tutte queste queste proposte ve lo siete domandati perché non vogliono fare le cose per il popolo stanno creando un sistema che sia perfettamente controllabile sapete perché non vi vogliono fare leggere i senatori direttamente quelli che hanno letto la riforma forse lo sanno ve lo leggo io vi leggo un atto il DL costituzionale un pezzettino piccolissimo si parla del perché non si debbano eleggere direttamente i senatori e dice elezione diretta che inevitabilmente potrebbe trascinare con sé il rischio che i senatori si facciano portatori di istanze legate più alle forze politiche che alle istituzioni di appartenenza ovvero quindi oppure di esigenze particolari circoscritte esclusivamente al proprio territorio e che la loro legittimazione diretta da parte dei cittadini possa inoltre indurli a voler incidere anche sulle scelte di indirizzo politico qualcuno di voi ha capito? ve lo spiego io con parole italiane umane e chiare non ti posso fare scegliere il senatore perché se te lo faccio scegliere tu potrebbe avere la voglia di fare il tuo interesse non posso più permettermi di fartelo scegliere perché questo quando sarà in senato siccome vi ha dato la parola dovrà mantenerla se no voi lo mandereste a casa allora io tolgo la responsabilità a questi senatori perché li ho scelti io e voi non potrete più dire niente nessuno di noi potrà più metterci mano non potrà più dire niente a nessuno togliamo la responsabilità ma cosa c'è di utile nel togliere la responsabilità allora voi inizierete a dire come me con chi me la prendo di chi è la colpa di questa legge ma sapete cosa dovranno fare i senatori poi? si dovranno occupare delle leggi delle direttive europee perché vi dicono che cambieranno il bicameralismo perfetto ma non vi hanno detto cosa daranno di competenze ai senatori cioè voi avrete 21 sindaci noi avremo non voi noi avremo 21 sindaci e 75 70 consiglieri regionali e 5 senatori a vita che dovranno approvare le direttive europee cioè quello che fino adesso ci ha privato della sovranità che ci ha fatto più danni della tempesta sarà in mano a persone che hanno già un altro lavoro da fare ma come faranno a occuparsi di queste cose come faranno ma voi il sindaco l'avete eletto per fare il sindaco e per curare la città o per andare a occuparsi di Monsanto e l'agricoltura ma secondo voi che attenzione potranno metterci cosa cavolo ci arriverà dall'Europa ma non siete un po' spaventati sono spaventato anch'io ma sono spaventato perché sento delle persone che voteranno sì o quantomeno dicono di votare sì perché finalmente mandiamo a casa 200 politici perché abbiamo risparmiato 50 milioni ma quelle sono le famose due palline di gelato su un piatto di melma signori non facciamoci abbindolare non facciamoci abbindolare vi do l'ultima chicca non è stata toccata assolutamente da nessuno attualmente se un consiglio regionale non si comporta bene se il suo presidente non si comporta bene c'è una commissione bicamerale camera senato che può scioglierla questa commissione non ci sarà più e sarà composta da consiglieri regionali che fanno i senatori quindi noi daremo ai consiglieri regionali il potere di sciogliere i propri consigli regionali ma se hanno già la sfiducia al presidente ma ci stiamo prendendo per il culo ci stiamo prendendo per il culo signori ora io vi dico teniamo duro convincete uno per uno i vostri parenti ce ne ho anche i parenti che mi dicono te ne andrai a casa i parenti parenti ragazzi parenti figuriamoci che bella situazione familiare signori andate andate e convinceteli tutti è importante perché poi non si torna indietro ve l'ho già detto non si torna più indietro vi ha fatto vedere Carlo come sarà il senato non si toccherà più la costituzione si può toccare si deve toccare ma si deve toccare per dare diritti non per toglierne ma vi sembra normale che allo stato attuale se voi volete fare se noi vogliamo fare una legge di iniziativa popolare come abbiamo fatto servono 50.000 firme e vi dicono che vi do più partecipazione perché vado in giro a dire che do partecipazione finalmente e vi dico però adesso ne raccogliete 150.000 di firme però ragazzi con 150.000 poi la discutiamo non vi hanno detto che la approvano vi hanno detto che la discutiamo e poi riprende 800.000 firme signori io il senato ho detto guardate mettete il numero di firme che volete per il referendum propositivi non mi interessa quante ne mettete di firme mi date la possibilità ci date la possibilità di raccogliarle anche online con lo strumento elettronico in mezz'ora un'ora dieci ore noi le 800.000 firme le raccogliamo risparmiamo non intasiamo niente non creiamo burocrazia mi hanno detto perché i veri strumenti di partecipazione fanno paura quando la gente partecipa fa il proprio interesse fa l'interesse di tutti perché si mettono insieme le intelligenze e invece questo fa paura non va bene ve l'ha spiegato Alessandro per gli Stati Uniti non va bene allora signore io chiudo qui non voglio tediarvi oltre il 4 dicembre tutti insieme dopo aver convinto amici e parenti io dico no nulla andate e moltiplicate buonanotte a tutti grazie buonanotte a tutti